Os 2013, Simona Greco, direttore della manifestazione. Simona, intanto, grande manifestazione come sempre, le aspettative sono quelle, sono state rispettate? Le aspettative sono sempre altissime, le mie, quelle del mio gruppo di lavoro e quelle delle aziende. Finora siamo riusciti comunque ad attenderle, quindi mi auguro che quest'anno sia lo stesso. Ieri i dati ci danno conforto in questo senso perché abbiamo incrementato gli ingressi più o meno del 15%, il 40% dei visitatori erano stranieri, tanto Farist, tanto Medio Oriente, tanta Russia. Ossia, le aziende stanno lavorando, si stanno già prenotando gli spazi per il 2015 perché il 2015 sarà sicuramente un momento irrinunciabile e quindi, insomma, è vero che la vittoria si canta alla fine, però siamo contenti se soprattutto le aziende sono contente. Ecco, Host può rappresentare una sorta di vetrina per il rilancio della rivitalizzazione del nostro Made in Italy, del nostro Wildlife? Sì, assolutamente sì. Io ho un vizio. Quando vado all'estero, quando viaggio, vado sempre a vedere le cucine, i ristoranti, i bar nei back office e vedo 90% prodotto italiano. Quindi la materia c'è. Il nostro compito di Feristi è quello di dare risalto a queste aziende. E come in questo caso, quando le aziende, oltre a presentare delle attrezzature assolutamente, come dire, al passo coi tempi, quindi attenti all'ambiente, attenti al risparmio energetico, con molte funzioni, e in più le riescono a vestire con la creatività italiana, devo dire che il risultato è sicuramente una vincita. Expo 2015 più Host è una bomba all'orogeria in senso positivo? Ma, noi ce l'aspettiamo. Host ha la fortuna nel 2015 di capitare durante il semestre. Quindi, oltretutto, siamo nell'ultimo mese, che storicamente è quello, diciamo, più rodato e che funziona meglio. Quindi ci aspettiamo. Tra l'altro, Fiera Minale è diventato partner ufficiale di Expo e quindi, insomma, non può che essere un binomio vincente. Ringraziamo Simona Greco, direttore di Host. Questa è Host 2013. Francesco Zazzara per PizzaFood.tv